buongiorno da ISE 2022 benvenuti nello stand screen line e quest'anno screen line presenta una nuova linea di prodotti abbiamo totalmente rinnovato la linea di nostri schermi motorizzati fino ai 4 metri e 30 qui potete vedere in ceiling linea evolution che sarà il nuovo nome commerciale e sulla destra slim, mot e Iago diventati evolution anche questi la grande trasformazione sta nella revisione del design chiaramente abbiamo dei case più lineari, più minimal ma la vera rivoluzione è nel motore abbiamo un motore a bordo silenzioso molto più veloce in grado di avere la chiusura del cassonetto in battuta quindi non avremo mai cedimento di tela in pvc e la possibilità finalmente di avere schermi smart quindi assolutamente domotici a completamento dei catalogo quest'anno a DISE screen line presenta anche il nuovo prodotto le nostre eclipse sono delle tende fonoassorbenti chiaramente lavorando nel mondo del meeting room e dell'home cinema abbiamo bisogno di filtrare la luce solare ma screen line ha voluto mettere l'accento, mettere attenzione all'assorbimento acustico quindi le nostre eclipse fanno un doppio lavoro fanno sia l'azione di filtro solare che di assorbimento acustico sono presenti nella versione singola, chiaramente doppia, motorizzate da un unico motore o twin twin sono chiaramente due eclipse uno in fronte all'altro danno la possibilità di scegliere fra due nuance e quindi fra due tipi di filtro solare naturalmente l'assorbimento acustico sarà raddoppiato grazie grazie grazie